guardalo, rampa per fare i trick, dopo li devi fare però eh ma perchè? ma perchè? trampolino ancora, lascialo intero è troppo largo vai trampolino vai, pronta la trapola la rampa, la rampa del reggiseno preparali basta, basta, non ce la faccio più va bene il party questa cos'è la curva curva sexy curva sexy quello è il delico e poi c'è la sesta va bene spazio così non puzza più eh va bene la spazio io vado su e vai su del cartone che ti sei fatto eh fai la curva sexy e qui e qui no non avete voluto pulire quella là qua è peggio qui là dove sono? quante sono le ore? oh 11 e un quarto andiamo ciao